prima cosa da fare hai la tua bella tavoletta prendi il tuo bel spinottino usb lo inserisci e nel momento in cui lo inserisci si accende il led te lo faccio rivedere inserisci si accende il led se non si accende il led potresti già avere un problema di connessione del cavo l'ha inserito male o la porta non funzioni usi l'altra porta altrimenti si deve accendere mac non è windows windows ha bisogno prima di installare device driver e poi colleghi fai il plugin viceversa mac ha già un suo device driver che riconosce la tavoletta infatti quando tu inserisci la tavoletta senza ancora aver caricato il programma l'applicativo la tavoletta nelle preferenze d'esistenza trovi questa app te la faccio rivedere questa app arancione con il segno